In questa presentazione vedremo come il programma GeoCatAltimetria sia in grado di gestire i profili e le sezioni di un rilievo altimetrico. Per far questo, come al solito, è sufficiente inserire il rilievo di partenza con tutti i dati di base per calcolare il piano quotato. Per i piani quotati, ovviamente, vi rimando a una precedente presentazione specifica e quindi, diciamo, una volta inserito il rilievo abbiamo visto che per ottenere il piano quotato a curve di livello è sufficiente attivare il menu contestuale ed aprire l'opzione curve di livello. In questo caso abbiamo già visto in quella presentazione che il programma lancia il CAD abbinato a GeoCat e quindi in questo caso il clone BriceCAD, che è un clone di AutoCAD e costruisce automaticamente il piano quotato a curve di livello all'interno del CAD. Poi abbiamo visto, sempre parlando dei piani quotati e curve di livello, che l'utente ha la possibilità di effettuare una serie di operazioni sul piano quotato tramite il menu di topografia con le scelte finali che riguardano appunto la parte altimetrica. In questo caso appunto vedremo come GeoCat altimetria è in grado di ricavare direttamente i profili e le sezioni dal piano quotato. Quindi attivo questa prima scelta, vedete mi esce questa mascherina che mi chiede il tipo di profilo che voglio estrarre dal piano quotato. Qui è possibile, vedete, dare una prima opzione in alto che indica se voglio estrarre un profilo longitudinale oppure un semplice profilo naturale. Il profilo naturale sarebbe un profilo che non tiene conto di sezioni ad un certo passo come vedremo successivamente, ma che estrae il profilo del terreno col suo andamento naturale secondo un tracciato planimetrico che io inserisco. Quindi adesso io potrei, vedete qui il programma mi dice seleziono il primo punto del tracciato, potrei benissimo andare a selezionare con gli snap dei punti ben precisi sul mio piano quotato, per brevità invece faccio un tracciato cliccando dei punti non definiti, diciamo, quindi cliccando semplicemente dei punti sopra il piano quotato. Supponiamo che questo sia il mio tracciato sul quale voglio avere il profilo naturale. Quindi una volta terminato di tracciare l'ultimo punto è sufficiente premere il bottone chiudi questa finestra e il programma mi genera il profilo naturale del tracciato che abbiamo appena definito sul piano quotato. Vedete che si chiama profilo naturale proprio perché le verticali tracciate non rispettano nessun passo, ma vengono tracciate automaticamente dal programma ogni volta che il terreno cambiava dipendenza secondo quel tracciato che abbiamo definito sul piano quotato. Naturalmente è superfluo dire che in questo caso la scala delle lunghezze è diversa da quella delle altezze, quindi c'è un rapporto molto preciso tra le due scale, altrimenti sappiamo che i profili non sarebbero riconoscibili. E poi quello che vediamo è che il programma mi ha anche completato nel profilo tutti i dati numerici effettivi, quindi la numerazione delle sezioni, la distanza parziale progressiva, le quote del terreno, eccetera. Su questo profilo ovviamente poi l'utente può andare avanti con una fase di progettazione. Nel nostro caso il programma altimetria ovviamente non vuole essere un programma di progettazione stradale o di questo tipo, per cui quello che l'utente può fare in questo caso è semplicemente andare a tracciare delle livellette, ad esempio a partire dai punti del profilo naturale, quindi io qui potrei dire adesso parto da questo primo punto, traccio una prima livelletta su degli altri punti e in questo modo vado a definire un mio tracciato di livelletta. Questa è un'operazione che naturalmente il programma permette di fare direttamente da CAD e quindi posso definire le livellette e fare le opportune considerazioni. In questo caso però abbiamo parlato di profilo naturale. Chiudiamo adesso questo esempio di profilo e vediamo che invece il programma mi permette, come dicevamo, di estrapolare anche profili longitudinali. La scelta è di attivare sempre profili e sezioni e qui lascio, diciamo, attiva questa opzione longitudinale. In questo caso però trattandosi di un profilo longitudinale posso anche aprire questa parte della finestra nella quale dico il passo al quale voglio attribuire le sezioni di questo mio profilo. Quindi posso dare un passo ad esempio di 40 metri, posso dire che voglio delle sezioni che abbiano una certa estensione a destra e a sinistra dall'asse, in questo caso inserisco 12 metri per entrambe, e posso ovviamente dare una scala lunghezza e scala altezza, in questo caso abbiamo dato una scala uguale, in quanto le sezioni trasversali evidentemente hanno una larghezza molto modesta e quindi è possibile dare la stessa scala, cosa che invece, vedete, non si fa in genere per i profili, perché per i profili si dà una scala lunghezza che è normalmente 5 se non di più volte superiore a quella delle altezze. Quindi abbiamo definito questi parametri e in questo caso possiamo, vedete, andare a tracciare il nostro profilo. Lo tracciamo sempre su punti casuali, ma potevamo anche con gli snap andare a fissare punti ben precisi, vedete che però in questo caso, a differenza di prima, sono state disegnate anche delle sezioni ad ogni 40 metri, che è il passo che abbiamo dato. Anche in questo caso poi è sufficiente andare a premere il bottone chiudi e qui vengono generati in sequenza sia il profilo longitudinale che poi le sezioni trasversali. Quindi completiamo l'operazione e adesso con il menu finestra del CAD torniamo sul profilo. Vedete che in questo caso il profilo non è come quello precedentemente generato, cioè quello naturale, ma è un profilo che è stato generato ad un passo di ogni 40 metri perché abbiamo dato effettivamente le sezioni a quel passo, tranne poi in questo punto in cui c'è una sezione in più perché in questo caso c'è stato il cambio di direzione, per cui dove c'è il cambio di direzione il programma genera una nuova sezione. Quindi questo è il profilo longitudinale con il passo di 40 metri e poi invece in quest'altro sef generato al programma troviamo le sezioni. Anche in questo caso le sezioni, dicevamo, riportano tutti i dati numerici relativi, l'asse, eccetera, per cui anche in questo caso, come abbiamo visto prima, l'utente potrebbe adesso qui dal CAD creare le sue sezioni di progetto e procedere con la fase progettuale. Questo per quanto riguarda profili e sezioni, diciamo, ricavati da un piano quotato a curve di livello. Il programma però, adesso chiudiamo pure il disegno CAD, permette anche di andare a fissare dei profili su punti predefiniti, cioè anziché generare il piano quotato a curve di livello, io posso attivare questa opzione, contoni e dividenti, che è una tabella che il programma riserva per definire delle sequenze di punti e vedete che io qui in questa prima riga ho definito una sequenza di punti che ho chiamato profilo punti, per far questo basta dare un codice in questa prima colonna che cominci con la lettera P e quindi la lettera P indica al programma che questa sequenza di punti genera un profilo e a quel punto allora posso, vedete, sempre attivare il calcolo reale delle quote, del rilievo e da questa tabella, vedete, si apre questo bottone che mi permette di generare il profilo per punti. In questo caso, vedete, qui anche qui posso scegliere se il profilo è naturale o longitudinale, posso andare a scegliere da questa casellina il profilo tra quelli definiti, in questo caso scelgo il profilo con codice P01, anche in questo caso posso intervenire sulle scale e sulle altezze e una volta premuto OK viene generato direttamente, vedete, il disegno CAD con il profilo sui punti definiti, quindi in questo caso non abbiamo dovuto creare un profilo direttamente su un piano quotato, quindi non abbiamo dovuto a monte creare un piano quotato a curve di livello avendo battuto una fascia molto larga di terreno, ma è stato semplicemente necessario inserire il rilievo e inserire i punti precisi sui quali volevo avere il profilo del terreno.